Fedeli all'impegno preso con il Paese e con il Governo, ma chiari su un punto, resta del lavoro da fare. Così Pierluigi Berzani esordisce all'Assemblea dei Deputati Democratici, riunite la vigilia del voto di fiducia sulla manovra economica. Il messaggio del segretario, che anticipa la posizione di che il PD esprimerà domani in aula durante le dichiarazioni di voto, è chiaro e forte. Tanto da riportare nei ranghi anche i malpancisti, i due deputati laburisti Esposito e Boccuzzi, che nei giorni scorsi avevano annunciato il loro voto contrario. E invece oggi, dietro la garanzia dell'impegno a votare sì, ma senza mollare la presa sul decreto, anche chi sorceva il naso si è dovuto ricredere. Perché, dice ancora Berzani, che nella riunione ha sottolineato il contributo dei democratici per portare a casa le importanti modifiche al test originario fin qui ottenute, dalle pensioni al limo fino all'aumento della tassa sugli scudati, è anche vero che ci sono cose che non vanno bene, battaglie irrinunciabili per il PD. Come il tema degli ammortizzatori sociali, questo e non l'articolo 18, perché bisogna dare una risposta a chi ha 55 anni e rimane senza lavoro, come a chi è iniziato a lavorare precocemente. Il PD dunque voterà compatto il suo sì al governo, ma dopo si apre la fase 2, che ha altri titoli, sviluppo, lavoro, crescita, occupazione, perché i sacrifici di oggi abbiano un domani.